La chiesa della Madonna del Monte, situata nei boschi lussureggianti di Soriano nel Cimino, è un luogo avvolto da un'aura di mistero e di leggende inquietanti. Immersa nella natura, questa chiesa è spesso descritta come un rifugio per l'anima, ma le ombre che la circondano raccontano una storia ben diversa. La chiesa è un'antica costruzione, la cui origine si perde nei meandri del tempo. Alcuni sostengono che le sue radici risalgano al Medioevo, quando i pellegrini vi si recavano per invocare la protezione della Madonna. Ma, man mano che la nebbia del passato si dirada, emergono anche racconti più oscuri. Si mormora che durante le notti di luna piena, quando il vento sembra sussurrare segreti antichi tra gli alberi, la chiesa diventi un luogo di ritrovo per culti esoterici e messe sataniche. Queste cerimonie, si dice, attirano non solo gli adepti del diavolo, ma anche curiosi e scettici, tutti spinti dal fascino del proibito. Le messe sataniche, in particolare, sono oggetto di discussione tra gli abitanti del paese. Alcuni raccontano di aver udito canti e invocazioni che risuonano attraverso i boschi, seguiti da un silenzio inquietante. Altri parlano di figure incappucciate che si muovono furtivamente tra gli alberi, avvolte nell'oscurità, i cui scopi rimangono avvolti nel mistero. Le credenze popolari si intrecciano con la realtà, alimentando una sorta di folklore locale che avvolge la chiesa e i suoi dintorni. Le leggende che circolano a Soriano nel Cimino non si limitano solo alla chiesa. Si narra di un'antica maledizione lanciata su un giovane contadino che, innamorato di una donna di nobili origini, decise di sfidare le convenzioni sociali. Per la sua udacia, si dice che la sua anima sia rimasta intrappolata tra le fronde degli alberi, a vagare in cerca della sua amata, la cui figura eterea appare solo a chi ha il coraggio di inoltrarsi nei boschi al calar della notte. Un'altra leggenda afferma che la Madonna del Monte custodisca un segreto legato a un tesoro nascosto, lasciato dai templari durante la loro fuga. Secondo i racconti, chiunque si avventuri nella foresta con l'intento di trovare il tesoro sarà protetto dalla Madonna, ma dovrà affrontare le sfide e le prove imposte da forze oscure, le quali non tollerano l'interferenza nel loro regno. Così, la chiesa della Madonna del Monte si erge come un simbolo di contrasti. Da un lato, un luogo di venerazione e spiritualità, dall'altro, un nodo di misteri e leggende oscure. Coloro che osano avvicinarsi a questa chiesa non possono fare a meno di sentirsi attratti da una sorta di magnetismo inquietante, un richiamo che si fa sentire non solo nei giorni di festa, ma anche nelle notti silenziose in cui il bosco racconta le sue storie, sussurrando all'orecchio di chi sa ascoltare. La leggenda del tesoro nascosto dai templari attorno alla chiesa della Madonna del Monte è una delle storie più affascinanti e avvincenti di Soriano nel Cimino, un racconto che affonda le radici nella storia medievale e si intreccia con il mistero e l'avventura. Il contesto storico. I cavalieri templari, noti per la loro devozione religiosa e il loro spirito cavalleresco, furono fondati nel XII secolo con l'intento di proteggere i pellegrini in Terra Santa. Oltre alla loro missione di difesa, i templari accumularono ricchezze immense attraverso donazioni e attività commerciali, diventando così una delle istituzioni più potenti del loro tempo. Tuttavia, nel XIV secolo, la loro fortuna volse al termine. Sotto il regno di Filippo IV di Francia, il loro ordine fu sciolto e i membri perseguitati, costretti a fuggire e nascondere i propri beni. La leggenda del tesoro. Si narra che, mentre i templari cercavano rifugio, un gruppo di loro si rifugiò nei boschi attorno alla chiesa della Madonna del Monte, dove trovarono un'ottima posizione strategica per nascondere i loro tesori. Gli antichi manoscritti, ora perduti, parlerebbero di una cassa piena di oro, gioielli e reliquie sacre, tesori accumulati durante le loro campagne e donazioni da parte di nobili devoti. Secondo la leggenda, prima di essere catturati, i templari seppellirono questo tesoro in una località segreta, tracciando un complesso di simboli e segreti per proteggere il suo luogo esatto. Si dice che il nascondiglio fosse sorvegliato da trappole e incantesimi, affinché solo un vero credente, guidato dalla luce della fede e dall'onore, potesse trovarlo. I segreti della ricerca Nel corso degli anni, molti cercatori di tesori hanno tentato di scoprire l'ubicazione di questo leggendario bottino. Alcuni affermano di aver trovato segni sui tronchi degli alberi e simboli scolpiti nella roccia, che potrebbero indicare la via verso il tesoro. I locali raccontano di avventurieri che si sono addentrati nei boschi, armati di mappe e attrezzi, solo per ritrovarsi a vagare in circolo, guidati da una sorta di incanto, come se le forze della natura avessero deciso di proteggerlo. L'influenza delle forze oscure La leggenda del tesoro è ulteriormente arricchita da racconti di forze oscure che proteggerebbero il nascondiglio. Alcuni credono che gli spiriti dei Templari, infuriati per la perdita del loro onore e della loro ricchezza, vaghino per i boschi, facendo in modo che nessuno osi avvicinarsi al luogo del tesoro. Le storie di apparizioni spettrali, visioni di cavalieri incappucciati e sussurri misteriosi nel vento, alimentano la paura e la curiosità di coloro che osano cercare il tesoro. La morale della storia. In fondo, la leggenda del tesoro dei Templari attorno alla chiesa della Madonna del Monte non è solo una storia di ricchezze perdute, è un monito per tutti coloro che cercano il potere e la fortuna senza onore e rispetto. Il tesoro, che potrebbe rimanere per sempre nascosto, è visto come una prova che solo coloro che sono puri di cuore e sinceri nelle loro intenzioni possono realmente meritarne il possesso. Così, la chiesa e i boschi circostanti non sono solo un palcoscenico per avventure e ricerche, ma un luogo in cui le leggende vivono e respirano, e dove il mistero continua a danzare tra le fronde degli alberi. La chiesa della Santissima Trinità è una delle gemme nascoste di Soriano nel Cimino, un luogo che mescola bellezza architettonica e leggende locali. Situata in una posizione suggestiva, questa chiesa è celebre per la sua storia e l'atmosfera mistica che la circonda. La storia della chiesa della Santissima Trinità. La costruzione della chiesa risale al XVII secolo e, sebbene non sia tra le più grandi chiese della zona, la sua architettura presenta elementi tipici dello stile barocco, caratterizzato da linee curve e decorazioni elaborate. La facciata è sobria ma affascinante, con un portale che invita i visitatori a entrare e scoprire l'interno, dove affreschi e opere d'arte adornano le pareti. Uno degli aspetti più interessanti della chiesa è la presenza di una barca imperiale, che è un simbolo associato alla navigazione spirituale e alla fede. La barca è spesso interpretata come un richiamo alla vita come un viaggio, con Dio come timoniere che guida i suoi fedeli attraverso le tempeste della vita. Questo elemento simbolico è parte di una tradizione che si ricollega a molte culture e religioni, dove l'acqua e le imbarcazioni rappresentano il passaggio da un mondo all'altro o l'inizio di un nuovo percorso. Leggende e misticismo. La chiesa è avvolta da un alone di mistero, con varie leggende che la circondano. Si narra che la Santissima Trinità fosse un luogo di rifugio per i pellegrini che attraversavano la zona e ci sono racconti di apparizioni e segni mistici che hanno attirato l'attenzione nel corso degli anni. Alcuni abitanti locali affermano di aver vissuto esperienze paranormali nei pressi della chiesa, come visioni o suoni inspiegabili, specialmente durante le notti più oscure. Inoltre, la chiesa è spesso menzionata in connessione con le pratiche religiose locali e le festività, contribuendo a mantenere viva la tradizione culturale di Soriano nel Cimino. Le celebrazioni religiose qui si svolgono con una certa solennità, attirando visitatori non solo per la spiritualità, ma anche per il desiderio di connettersi con le storie e i racconti del passato. La chiesa oggi. Oggi, la chiesa della Santissima Trinità è aperta ai visitatori e continua a essere un luogo di culto e meditazione. È un punto di riferimento per gli abitanti di Soriano e un'interessante tappa per coloro che desiderano esplorare la storia e la cultura del luogo. Gli eventi religiosi e le celebrazioni liturgiche si alternano a momenti di apertura al pubblico, rendendo la chiesa un fulcro di vita comunitaria. Per chi è attratto dal paranormale o dalla storia, la chiesa della Santissima Trinità è senza dubbio un luogo che merita di essere esplorato, sia per la sua bellezza architettonica che per le storie che racconta. Le leggende legate alla chiesa della Santissima Trinità sono molteplici e variegate. Tra le storie più suggestive, ci sono racconti di apparizioni di santi o di visioni celestiali che alcuni devoti avrebbero avuto durante le preghiere. Inoltre, si narra che in particolari notti di luna piena, la chiesa diventi un luogo di ritrovo per anime in cerca di pace o di guida, facendosi che alcuni visitatori abbiano vissuto esperienze di contatto con il soprannaturale. Un'altra leggenda interessante riguarda i suoni misteriosi che si dice possano provenire dalla chiesa durante la notte. Alcuni sostengono di aver udito canti melodiosi o preghiere sussurrate, come se la chiesa avesse una vita propria e stesse comunicando con il mondo esterno. Le apparizioni celestiali. Una delle leggende più diffuse riguarda le apparizioni di figure celestiali all'interno della chiesa. Si narra che in particolari notti di preghiera, i devoti abbiano avvistato figure angeliche che si manifestano in forma luminosa, guidando i fedeli verso la riflessione e la preghiera. Queste apparizioni vengono spesso interpretate come segni di protezione e benedizione da parte della divinità. Storia e contesto. Le apparizioni celestiali, in generale, si riferiscono a visioni o manifestazioni di entità divine, come angeli, santi o persino figure di Gesù e della Vergine Maria. Queste esperienze sono documentate in molte tradizioni religiose e hanno avuto un forte impatto sulla fede e la devozione dei credenti nel corso dei secoli. Nella tradizione cattolica ci sono stati numerosi eventi storici di apparizioni che hanno portato a pellegrinaggi e alla costruzione di santuari. Apparizioni nella chiesa della Santissima Trinità. Nel contesto della chiesa della Santissima Trinità, ci sono storie di devoti che affermano di aver vissuto esperienze mistiche durante momenti di intensa preghiera. Queste apparizioni vengono spesso descritte come visioni di figure celestiali che offrono conforto, guida o messaggi divini. I racconti variano, ma ci sono alcuni elementi ricorrenti. Visibilità e luce. Molti testimoni parlano di un'intensa luce che avvolge l'ambiente durante le apparizioni, creando un'atmosfera sacra e mistica. La luce è spesso associata alla presenza di angeli o figure divine, e i devoti descrivono come questo fenomeno porti un senso di pace e meraviglia. Messaggi di speranza. Le apparizioni non sono solo visive, ma sono accompagnate da messaggi interiori che i fedeli percepiscono. Questi messaggi possono riguardare la speranza, il perdono, l'amore divino o l'invito a rimanere saldi nella fede. Spesso, chi ha vissuto tali esperienze sente di essere stato scelto per ricevere una benedizione speciale. Fenomeni naturali. In alcuni racconti, le apparizioni si verificano in concomitanza con eventi naturali, come tempeste o cambiamenti nel clima, creando un contesto drammatico che amplifica l'intensità dell'esperienza. Alcuni credenti interpretano questi eventi come segni divini che accompagnano le manifestazioni celestiali. Impatto sulla comunità. Le apparizioni celestiali alla Chiesa della Santissima Trinità hanno avuto un impatto significativo sulla comunità locale. Molti devoti visitano la Chiesa sperando di vivere esperienze simili, e questo ha contribuito a mantenere viva la tradizione della fede nella zona. Le storie di apparizioni si tramandano di generazione in generazione, alimentando un legame profondo tra la Chiesa e la comunità. Inoltre, questi eventi attirano l'attenzione di studiosi e appassionati di paranormalità, creando un'interessante intersezione tra fede e curiosità. La possibilità di raccontare esperienze personali o di esplorare il tema delle apparizioni potrebbe essere un ottimo argomento. Vi invito a riflettere su cosa significano queste manifestazioni per voi e come influenzano la vostra visione del mondo. Le apparizioni celestiali, specialmente in un contesto come quello della Chiesa della Santissima Trinità, offrono uno spunto per esplorare il mistero della fede e la connessione tra il divino e l'umano. Il giuramento degli amanti. Un'altra leggenda popolare narra che la Chiesa fosse un luogo di giuramenti d'amore tra giovani coppie. Si racconta che, se due innamorati promettevano fedeltà davanti all'altare della Santissima Trinità, il loro amore sarebbe stato protetto da forze divine. Molti sostengono che le coppie che si sono sposate qui abbiano goduto di un matrimonio lungo e felice, circondati dalla benedizione della Chiesa. Il segreto delle mura. Alcuni abitanti di Soriano nel Cimino parlano di segreti custoditi all'interno delle mura della Chiesa. Si narra che, durante i momenti di intenso fervore spirituale, si possa percepire un'energia particolare che avvolge il luogo, come se le pareti stessi fossero cariche di storie e ricordi. Si dice che chi si ferma in preghiera senta le voci del passato, sussurri di chi ha camminato in questo luogo prima di loro, testimoni di una fede duratura. Le anime in purgatorio. Un'altra leggenda afferma che la Chiesa sia un luogo di passaggio per le anime in cerca di redenzione. Si crede che, durante alcune festività, le anime dei defunti si riuniscano nei pressi della Chiesa, cercando conforto nelle preghiere dei vivi. I devoti che pregano con devozione possono quindi, secondo la tradizione, aiutare queste anime a trovare la pace e a liberarsi dalle loro sofferenze. I fantasmi dei pellegrini. Infine, si narra che la Chiesa fosse un antico luogo di sosta per pellegrini in viaggio verso Roma. Alcuni di loro, si dice, non abbiano mai lasciato il luogo, diventando spiriti che vegliano sui viaggiatori moderni. Chi si avventura nelle vicinanze della Chiesa, specialmente di notte, potrebbe avvertire la loro presenza attraverso un leggero fruscio nel vento o ombre che si muovono tra gli alberi circostanti. La barca reale cinese è una leggenda affascinante che si intreccia con la storia e la cultura della zona di Soriano nel Cimino, in particolare nella Chiesa della Santissima Trinità. Questa chiesa, che sorge in un contesto panoramico incantevole, è un luogo di grande spiritualità e mistero, che si presta perfettamente a racconti suggestivi e storie di folclore. Origini della leggenda La leggenda della barca reale cinese affonda le radici in un'epoca in cui l'Oriente esercitava un fascino straordinario sull'Occidente. Si narra che, durante una delle tante rotte commerciali tra Europa e Asia, una nave appartenente a un principe cinese si trovò in difficoltà mentre cercava rifugio. Secondo il racconto, la barca, riccamente decorata e adornata con simboli della cultura orientale, sarebbe approdata sulle sponde di un lago non lontano da Soriano, dove i marinai furono accolti con grande entusiasmo dalla popolazione locale. La chiesa della Santissima Trinità Questa chiesa, con la sua architettura tipica e il suo clima di pace, ha sempre attirato i pellegrini e i curiosi. La sua costruzione risale al XVI secolo e si distingue per le affascinanti opere d'arte e gli affreschi che adornano le sue pareti. La chiesa è spesso associata a eventi storici e spirituali che hanno segnato la comunità di Soriano nel Cimino. La nascita della leggenda Secondo la leggenda, i marinai cinesi, colpiti dalla bellezza del luogo e dall'ospitalità degli abitanti, decisero di donare alla comunità una parte della loro cultura. Così, nella chiesa, avrebbero celebrato una messa in onore della Santissima Trinità, durante la quale una piccola barca, simbolo di protezione e fortuna, sarebbe stata benedetta e sistemata come decorazione all'interno dell'edificio. Si narra che questa barca, che in origine rappresentava il legame tra i due mondi, divenne un portafortuna per la comunità. Elementi simbolici La barca, secondo la leggenda, simboleggia il viaggio, l'esplorazione e il commercio, ma anche l'unione tra culture diverse. Il suo significato va oltre il semplice oggetto, rappresenta l'incontro tra il mondo occidentale e quello orientale, un dialogo tra spiritualità e vita quotidiana. Gli elementi decorativi che adornano la chiesa, uniti all'immagine di questa barca, evocano un'atmosfera di mistero e di meraviglia. Storie di fantasmi. La leggenda non si ferma qui. Alcuni racconti narrano di apparizioni spettrali legate alla barca. Si dice che durante particolari notti di luna piena, sia possibile scorgere un'illuminazione sopra la chiesa, come se la barca si stesse sollevando dall'acqua e tornasse a navigare nei cieli sopra Soriano. Questi avvistamenti sono stati raccontati da alcuni abitanti del paese, alimentando la fama della chiesa come luogo di eventi paranormali. Un luogo di culto e mistero. Oggi, la chiesa della Santissima Trinità e la sua storia legata alla barca reale cinese rappresentano un affascinante intreccio di fede, tradizione e mistero. La combinazione di arte, spiritualità e leggende locali attira visitatori e turisti, interessati a scoprire non solo la bellezza del luogo, ma anche le storie che esso custodisce. Conclusioni. In conclusione, la leggenda della barca reale cinese a Soriano nel Cimino è una testimonianza della ricchezza culturale e spirituale della regione. Essa invita a riflettere sulla connessione tra diverse culture e la bellezza dell'incontro umano. Se mai ti trovassi nei pressi della chiesa della Santissima Trinità, potresti non solo ammirarne la bellezza, ma anche lasciarti trasportare dalla magia delle storie che la avvolgono. Magari potresti anche ascoltare il sussurro del vento, che racconta di antiche rotte e di legami tra terre lontane, proprio come la barca che solca le acque della memoria. La chiesa della Santissima Trinità ha attirato l'attenzione non solo per le sue leggende e la sua storia, ma anche per la sua notorietà nei media. Recentemente è stata menzionata nella trasmissione Freedom, oltre il confine, condotta da Roberto Giacobbo, un programma che esplora misteri, curiosità e luoghi affascinanti d'Italia e del mondo. Nell'ambito della trasmissione, Giacobbo ha esplorato il tema delle leggende locali e dei luoghi di culto che racchiudono storie di mistero e spiritualità. La chiesa della Santissima Trinità è stata presentata come un esempio di come la fede possa intrecciarsi con le leggende popolari, offrendo una prospettiva affascinante su come questi luoghi sacri siano percepiti nella cultura contemporanea. Durante il programma si è parlato delle apparizioni, delle tradizioni legate alla chiesa e della sua atmosfera mistica, contribuendo a sensibilizzare un pubblico più ampio sulla sua importanza storica e culturale. Questa esposizione televisiva ha attirato l'attenzione di molti curiosi e appassionati di misteri, incrementando l'interesse per la chiesa e per i racconti che la circondano. Eccoci giunti alla fine di questo misterioso viaggio tra sacro e profano. Oggi abbiamo esplorato le storie affascinanti della chiesa della Santissima Trinità, con il suo legame unico e intrigante con la barca imperiale cinese, e ci siamo avventurati nei boschi di Soriano nel Cimino, dove la chiesa della Madonna del Monte cela segreti e voci inquietanti di rituali oscuri. Chi l'avrebbe mai detto che dietro a queste mura si nascondessero storie così affascinanti e, a tratti, terrificanti. Se questa immersione nel paranormale ti ha intrigato e stuzzicato la tua curiosità, non dimenticare di iscriverti al nostro canale La Damanera. Qui troverai sempre nuovi racconti di misteri, miti e leggende che non ti faranno mai dormire tranquillo. E mentre sei lì, attiva anche la campanella delle notifiche, così non perderai neanche un episodio delle nostre avventure. Fatti travolgere dal mistero e lasciati affascinare da storie che sfidano la ragione. Ricorda, ogni iscrizione è un passo più vicino alla verità. Grazie per averci accompagnato oggi, e alla prossima avventura tra le ombre e i misteri della nostra meravigliosa Terra. Restate inquieti e curiosi.